Il Comune può e deve intervenire. Parole chiare quelle di Claudio Bizzotto, vicepresidente di Aria, che sul caso San Lazzaro non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Il ritiro dei progetti di MEB e AGB è da considerarsi, come detto, una tregua prima della presentazione di un nuovo progetto blindato. Un'attesa che residenti e associazioni non vogliono diventi tempo perso. Per questo chiedono un intervento e una presa di posizione risolutiva da parte dell'amministrazione comunale. L'amministrazione ha detto che si riparte da zero. Noi speriamo di no. Speriamo che l'amministrazione faccia tesoro di quello che è successo in questi mesi. L'assessore Viero dichiara che dovremmo richiedere un maggiore coinvolgimento. Non abbiamo avuto nessun coinvolgimento di nessun tipo, anzi molti ostacoli. E vogliamo invece dire all'amministrazione che deve assolutamente decidere del destino di quest'area. Destinazione urbanistica vuol dire dare un destino a un luogo. Questo luogo per noi non può essere fatto diventare come quello che ho alle mie spalle, ma è un patrimonio di tutta la città e del Veneto. Anche sulle prospettive occupazionali ipotizzate nei piani di industrializzazione, aria solleva dubbi e perplessità. I posti di lavoro servono a tutti. Ma quale lavoro? Per quanto tempo? Quanto durerà questa cosa? E chi certifica quei posti di lavoro? Forse quell'area può offrire molti più posti di lavoro, di qualità e molto più aperti al futuro. Noi vogliamo che cambi tutto da parte dell'amministrazione. Sul futuro di San Lazzaro, dunque, non si vuole aspettare una decisione dall'alto, ma riscrivere insieme la storia di uno degli ultimi polmoni verdi di Bassano, dandole un degno lieto fine. Intanto è stato fissato per il 14 dicembre un maxiconvegno aperto ai cittadini. Grazie.